Ciao a tutti e benvenuti qui sul mio canale, io sono Elkriga ed ecco qua un nuovo video di GTA V questa volta è una guida creata da me per completare il trofeo Kiflom e sbloccare le varie side quest correlate non vi farò spoiler perché comunque non mi va di farvi vedere cosa succede, vi faccio vedere solo le cose essenziali per completare queste missioni è il trofeo bronzo, vi consiglio di farlo perché offre 8 missioni di folli e sconosciuti quindi aumenterà un bel po' la percentuale di completamento per arrivare al 100% spero alla fine che vi piaccia il video perché ho fatto del mio meglio, ho registrato per oltre 2 ore e mezza di gameplay per completare questo trofeo senza mai fallire ovviamente ma il trofeo è lunghissimo quindi insomma spero che apprezziate gli sforzi fatti da me non mi resta che salutarvi, vi lascio il video, non lo commenterò tutto ma ci sono i passaggi scritti al video un saluto da Elkriga, ciao belli! un saluto da Elkriga un saluto da Elkriga un saluto da Elkriga uno con Grazie a tutti. 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 Un saluto. Grazie a tutti.